Io questo video l'ho già visto, però un video di due anni fa ce lo riguardiamo perché secondo me nasconde uno dei più grandi problemi del mondo Pokémon odierno. Era il 2013 ed un Pikachu in cima alla Tour Eiffel annunciava un nuovo capitolo della saga di Pokémon, la sesta generazione Pokémon X e Pokémon Y, i primi capitoli su Nintendo 3DS. Questo era il primo e vero approccio di Game Freak interamente in 3D di un titolo Pokémon e avevano tutti grandi aspettative a riguardo. All'uscita dei titoli però le perplessità furono tante. Il 3D sembrava in qualche modo aver fatto perdere quella magia che Pokémon aveva sempre avuto e tale perdita non sembrava compensata da un buon comparto grafico. Allora mi fermo subito perché io Pokémon X e Y e soprattutto il 3DS sono stati i primi acquisti della mia vita quando ho iniziato davvero a fare un lavoro con continuità durante la settimana mentre studiavo, mentre portavo le pizze eccetera eccetera. Sono stati il mio primo vero acquisto grosso e avevo tanta voglia di Pokémon in 3D, ma veramente tanta perché io che sono cresciuto con Pokémon Stadium mi sono divertito tantissimo. Ho giocato anche a dei titoli Gamecube, cioè Pokémon Colosseum è uno dei giochi siccome più belli in assoluto, quello mi piacerebbe rigiocarlo perché ho giocato una sola volta in vita mia ed era tanta roba. Sulle console portatili purtroppo purtroppo ha perso veramente tantissimo. Anzi, tutt'altro. Da lì in poi tutti i titoli Pokémon sono risultati sempre più poveri di contenuto rispetto ai predecessori e soprattutto con vistosi problemi legati al comparto grafico che si trascinano ormai da anni e che ci riportano sempre alle solite lamentele su quanto le texture... A me X e Y sono piaciuti, l'ho già detto tante volte, poi incompleti è dire poco perché non si conclude la trama, non c'è un terzo titolo, sono facilissimi, purtroppo sono facilissimi, però credo che tuttora sia uno dei giochi che mi piace di più da pensare dal punto di vista di storyline perché ci sono un sacco di Pokémon che mi piacciono. Puoi veramente fare delle squadre bellissime. Le mega evoluzioni semplificano ancora di più il gioco, il doppio starter semplifica ancora di più il gioco, Lucario Regalato semplifica ancora di più il gioco, servirebbe veramente riproporli anche in modalità difficili. Ora vediamo con Zeta che cosa si inventano. Degli alberi siano brutte. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare vi ricordo di seguirmi, di mettere mi piace e di commentare. Parliamo finalmente del problematico passaggio ai titoli in 3D ed iniziamo con la prima criticità legata alle animazioni e ovviamente alla qualità grafica. Tallone da kille di casa Game Freak. Che per me questo non è nemmeno il problema più grande, perché per me in realtà questa grafica non è nemmeno malissimo. Ci sono dei Pokémon però che sono stati completamente uccisi da questa roba. Uccisi ma proprio a dir tanto. E poi io qua faccio emergere il mio lato super boomer. Gli sprites. Gli sprites sono sempre troppo più belli e inutile. Vecchi titoli Pokémon non in 3D, le animazioni erano abbastanza semplici, nonostante altri titoli che sulle stesse console e negli stessi anni riuscivano a fare di meglio. Più che altro la cosa che mi dà veramente fastidio sono quelle righe lì, vedete le righe, guardate più che Zorog, guardate Fennekin. Cioè non sono dritte, sono tutte pixelate, tutte rovinate, perché probabilmente non erano in grado di fare qualcosa di meglio con quello che avevano a disposizione. Vedete, sono tutte... è come se vai fuori a colorare dal bordo. Questo però difficilmente si notava, dato che gli elementi in 3D non erano tanti e affatti... In realtà non si notava fino alla quarta, secondo me già dalla quinta questa cosa si notava, perché hanno provato a evolvere gli sprites con tutto quello che avevano nel motore grafico del DS e non erano meravigliosi, secondo me. Cioè erano molto più belli quelli di quarta che quelli di quinta, gli sprites. Mio modesto... mia modesta opinione. Farla da padrone era l'amatissima pixel art, che con poche ma efficace animazioni risultava comunque abbastanza convincente. Mamma mia che belle. Ecco, allora anche questi erano tutti seghettati, d'accordo, però qui stiamo parlando veramente di troppi anni fa e questo era davvero, davvero il massimo. Il passaggio al 3D ha puntato invece i riflettori sotto le animazioni ripetute e mal curate, che sfortunatamente dopo quasi dieci anni dal primo gioco in 3D continuano a non essere di buona qualità. Un esempio è la classica animazione quando si prende un oggetto o quando ci viene consegnato. Se nei giochi in 2D animazioni come questa venivano mascherate soltanto da una scritta che avvisava del compimento dell'azione, vederle in 3D è tutto un altro discorso e animazioni come questa fanno risultare... Mamma mia, ecco, per dire, a me leggende è piaciuto tantissimo, però oggettivamente sta roba qui non si può vedere. ...li Pokémon attuali graficamente ridicoli. Le difficoltà del team erano palesi già da Pokémon X ed Y, molto al di sotto delle aspettative, ad esempio per gli spostamenti del nostro personaggio, ragionati in griglia e quindi meccanici e goffi. La cosa che mi è piaciuta di meno di X e Y è i personaggi molto cibi. Le sproporzioni tra gli edifici ed i personaggi o l'assenza di espressioni. Il salto di qualità in termini grafici si pensava potesse arrivare con Pokémon su Nintendo Switch, ma tra Pokémon Spada e Scudo. Vabbè, adesso rido per fare un po' di meme, però a me la grafica non importa mai particolarmente tanto, mi importa di più la giocabilità e il Pokédex quando gioco un gioco a Pokémon, ma so che sono io lo strano. E leggende Archeus, siamo purtroppo ancora molto lontani dall'avere un titolo Pokémon full 3D graficamente valido. E Game Freak sembra fare sempre molta fatica, e anche Scarlatto e Violetto non sembrano promettere bene in questo senso. E in tanti temono che anche a questo giro le critiche sul comparto grafico non mancheranno. Ma sì, ma è ovvio perché oggi il mondo è fatto veramente di videogiocatori. Io non sono un videogiocatore, a me piace giocare a Pokémon, quindi della grafica mi accontento, tra virgolette. E' ovvio che chi invece è abituato a giocare a tanti videogiochi lo veda un po' come una regressione, penso che sia giustissimo. Ma la cosa più problematica del passaggio al 3D sono proprio i modelli dei mostriciattori tascabili, i veri protagonisti di ogni avventura Pokémon. Tutti i Pokémon, a partire dalla sesta generazione, hanno ricevuto un proprio modello 3D, e alcuni Pokémon, pensati inizialmente per essere rappresentati soltanto con una manciata di pixel, ne hanno risentito profondamente e per ovvie ragioni non risultano troppo convincenti in 3D. Questo però, da una parte, è normale. Cioè, gli stessi Gengar e Charizard, che sono i miei Pokémon preferiti, in 3D secondo me non rendono onore a quella che era l'idea dei due Pokémon fatta in pixel. I Pokémon sono diventati nel tempo man mano sempre più complessi, e quelli delle prime generazioni non erano pensati di certo per un titolo in 3D, motivo per cui il loro modello non può che risultare... Cioè, guarda Dragonite, ma Abra ancora ancora va bene, però Dragonite veramente, cioè, è una vomitata. Piuttosto statico, tuttavia alcuni di questi sono stati peggiorati senza una valida ragione. Un esempio di questo è Syndaquil e... Che sofferenza. Qua si soffre, eh. Qua si soffre veramente tanto. Cosa cazzo ti hanno fatto, amico mio? Cosa cazzo ti hanno fatto? Eri... Il re, il più figo dei fighi. E adesso cosa cazzo sei? È relativa a famiglia evolutiva, a cui sono state eliminate le fiamme perenni, mentre il Pokémon si trova in lotta. Electros, che fluttuano nell'aria ed è totalmente diverso da Pokémon bianco e nero. O Stanfisk. Alzi la mano a chi ha mai catturato Stanfisk. Per avere... Una linea. Vai! Linea! Scelgo te! Eugenio, grazie per la sub, benvenuto. Ciao caro. Hai mai catturato Stanfisk? Faccelo sapere, che schifezza. Un modello che in lotta è a malapena visibile. Tutti i modelli 3D hanno poi dei colori davvero spenti. Anche Nido King. Cioè, guarda Nido King, come cazzo era fiero di essere fortissimo. Che minchia è quella roba lì invece? Cioè, come hanno peggiorato dei mostri sacri, porca troia. Cioè, Golem non è mai stato bello, eh? Per me, o almeno comunque non meraviglioso. Ma vogliamo mettere lo sprite col modello 3D? Cioè, il modello 3D sembra un emorroide con la faccia. Rispetto ai vecchi sprite, che avevano colori molto, ma molto più accesi. Ma questo però, c'è una spiegazione, che troviamo in un'intervista fatta da Gamesbit a Junichi Masuda e Ironobu Yoshida, graphic designer coinvolto in molti progetti Pokémon e che ha ideato mostriciattoli iconici come Celebi o Magmortar. In questa intervista, realizzata ai tempi dell'uscita di X ed Y, venne chiesto come mai ci avessero messo così tanto tempo per passare dal 2D al 3D. Alcuni spin-off Pokémon erano infatti in 3D già dal Nintendo 60... Che bello. Snap non l'ho mai giocato. ...4. E a questo rispose Masuda, spiegando che la loro intenzione era quella di rendere i modelli 3D simili ai disegni di Kensugimori. Sto... Ah, meno male! Ah, i 2D forse. ...era quella di rendere i modelli 3D simili... Però i 3D! Meno male! ...simili ai disegni di Kensugimori, storico illustratore del franchise, e che l'hardware del 3DS poteva aiutare nel rendere la cosa, e che quindi avevano impiegato così tanto tempo per questo motivo. Perfetto. Il problema in questo senso è che i modelli 3D risultano spenti, poco cartuneschi se così vogliamo dire, in forte contrasto con lo stile colorato dei titoli Pokémon. e la soluzione di rendere i modelli dei Pokémon simili agli artwork di Sugimori ha avuto l'effetto contrario di staccarsi... Guarda Charizard. È un peperone alato. ...eccessivamente dai coloratissimi... Ai miei amori, guarda lì Gengar, che cazzo gli hanno fatto? Che cosa cazzo gli hanno fatto a Gengar? Ma perché? Sprite. Ma in casa Game Freak in realtà... Vabbè, qua non è che siamo peggiorati di tanto, ecco. Sono sempre stati abbastanza scettici sul passaggio al 3DS. Perché ingrassarli tutti? In merito a questo dobbiamo fare un passo indietro al periodo d'uscita di Pokémon... Glyscore invece è sempre figo, incredibile. ...non bianco e Pokémon nero. I titoli di quinta generazione furono rilasciati il 18 settembre del 2010 e solo qualche mese dopo fu rilasciata la nuova generazione di console Nintendo, il Nintendo 3DS. Perché quindi non realizzare Pokémon bianco e nero per la console di nuova generazione e quindi con un passaggio al 3D? Sempre in un'intervista a Masuda, proveniente questa volta da MTV Multiplayer, venne fatta proprio questa domanda. E Masuda in merito ai modelli dei Pokémon spiegò che i modelli 2D erano il risultato della personalità dei disegnatori e che un passaggio al 3D avrebbe reso i modelli sempre tutti uguali e la scelta del mantenimento del 2D era dettata proprio dalla volontà di non cancellare questa individualità. Ce ne siamo resi conti. Gli sprite dei Pokémon sono infatti sempre stati modificati in ogni generazione. Che belli. Bellissimi. Con poco ti davano tutto. ...e dotati sempre di pose differenti. Che meraviglia, guarda che meraviglia. Che bei colori, cazzo. Colori clamorosi. Dimmi che questa è una di quelle cose che i fan non apprezzano maggiormente. E quindi Masuda ci aveva visto lungo. Tanti ricordi. Meravigliosi. Perché era bello chiedersi quale nuovo sprite avrebbe avuto il proprio Pokémon preferito nella nuova versione. Ma dal 2013 abbiamo avuto sempre gli stessi... ...identici modelli. E per di più alcuni di questi... ...discutibilissimi. La nostalgia per la pixel art è tantissima. E non è un caso che alcuni artisti... Che colori incredibili. Ma sei attratto solo dai colori. Cioè è inutile. Guarda i colori. Guarda i colori. ...puntualmente gli sprite degli ultimi Pokémon rilasciati immaginando il loro aspetto... Cioè ma raga... Cioè... Dai, sono clamorosi così. Cioè guarda Corviknight che è bello sempre Corviknight. Ma guarda che bello. Cioè immaginatelo così. Che cazzo di figo. Bellissimo. In un titolo Pokémon in 2D. Proprio per il forte attaccamento a... Guarda. Quello slobro di Galar. Tra l'altro Pokémon clamoroso. A quel tipo di titoli Pokémon. In un'intervista successiva a questa, realizzata nel 2012 da Game Informer, in occasione dell'uscita di Pokémon Bianco e Nero 2, salto fuori ancora una volta la questione del 3D. E venne chiesto nuovamente a Masuda se fosse in programma per i titoli futuri di Pokémon un passaggio al full 3D. E a questo rispose spiegando nuovamente che il team era molto legato ai modelli 2D e agli sprite per quello che riuscivano a comunicare con questi ultimi. E che se in futuro avessero trovato un modo per fare la stessa cosa in 3D, che sicuramente l'avrebbero fatto. Ma soprattutto Masuda disse che il passaggio al 3D avrebbe potuto far perdere un certo feeling alla serie. E a distanza di anni, purtroppo, è esattamente quello che è successo. Tornando quindi all'in... Eugenio, grazie mille per la donazione, ho visto l'euro su Paypal, dopo ti rispondo alla domanda. Intervista di Masuda e Yoshida del 2013. Solo con Pokémon X ed Y, il team ha trovato i mezzi per poter passare al 3D, con la soluzione di rendere i modelli simili agli artwork di Sugimori. E da qui i colori spenti. Tuttavia l'unicità di cui parlava Masuda nell'intervista del 2012 si è appunto persa con il passaggio al 3D. Sì, io non riesco a capire perché abbia modificato i colori però. 3D perché i modelli sono, a distanza di anni, praticamente gli stessi in tutti i giochi. Se nelle prime due interviste Masuda era molto scettico sul passaggio al 3D, possiamo affermare che in realtà è poi dovuto scendere a compromessi da Pokémon X ed Y in poi. È la soluzione di legare i modelli 3D agli artwork di Sugimori. Sono uguali, i modelli 3D sono uguali all'artwork. Guardate qua, non noto differenze identici. C'è il 3Flucio, guardate il 3Flucio, è proprio uguale. Ma dai. Si è rivelata tutt'altro che vincente. Uno degli altri problemi portati dal 3D e legato ai modelli dei Pokémon è il disastro causato dalle lotte aeree. Le lotte aeree sono delle particolari lotte introdotte a partire da Pokémon X ed Y e a differenza di tutti gli altri campi lotta si svolgono in cielo. L'idea di per sé è abbastanza interessante, se non fosse per il fatto che a causa di queste lotte i modelli 3D di alcuni Pokémon sono stati devastati. Alle lotte aeree possono partecipare soltanto Pokémon di tipo volante e Pokémon con levitazione. Per questo quasi tutti i Pokémon di tipo volante hanno un modello 3D che in lotta è sempre in volo. Suello, ad esempio, anche se si trova a 2 cm di distanza dal terreno, sarà sempre in volo. Pokémon come Schermory fluttuano a mezz'aria e sembrano legati a dei fili come delle marionette, dato che non sbattono le ali. E Pokémon come Xatu... Mamma, guarda Xatu, guarda Xatu. Xatu è un Pokémon interessantissimo come concetto, guarda come cazzo l'ha ridotto. Che hanno la sola colpa di essere di tipo volante, hanno perso la loro iconica posa, solo per poter partecipare a queste battaglie. Cioè, è ispirato a un totem? Questo cazzo è ispirato a un totem, lo faccio anche vola. Il punto è che questi Pokémon hanno anche l'animazione dove non sono in volo, quella utilizzata nel Poké Io e Te o nel Poké Campeggio. E dato che le lotte aeree sono state eliminate e non esistono più, è assurdo vedere ancora questo tipo di modelli. Perché sono davvero imbarazzanti e portano i giocatori ad evitare di usare certi Pokémon. Perché sono troppo brutti in 3D. In tanti hanno modificato questa cosa con delle mod, mostrando quanto sarebbero migliori i modelli dei Pokémon se solo sistemassero questa cosa. Altro discorso ancora, quello delle animazioni. I modelli 3D sono stati ragionati come se fossero sprite, con delle animazioni dei Pokémon abbastanza statiche mentre attaccano. Ad esempio Pokémon... Sì, hanno corretto molto questa cosa nei DLC di Scarlato e Violetto. Come Blastoise, che spara idrocannone dalla testa anche quando... Adesso lo spara dai cannoni. Omega evolve e aggiunge più cannoni. Se prima di Spade Scudo si poteva pensare che questo fosse dato dalla presenza di troppi Pokémon nel Pokédex da poter animare, il punto di rottura si è raggiunto in Spade Scudo, dove per meno Pokémon abbiamo visto delle animazioni davvero imbarazzanti e che hanno infiammato la community. Fortunatamente con leggende ci sono stati dei piccoli passi navati. Cioè guarda la skin. E per quanto riguarda Scarlato e Violetto, possiamo dire, in merito ai modelli dei Pokémon, che si è definitivamente abbandonato... Cioè guardassi Viper, li vedi le squame. ...il tentativo di emulare lo stile di Ken Sugimoro. Guarda qua, è lucido. ...dato che sono estremamente dettagliati. Il problema insomma non è tanto il passaggio al 3D, che ha tanti aspetti positivi, ma il modo in cui è stato fatto questo passaggio. E a distanza di anni, la paura di Masuda che il 3D potesse far perdere quel feeling dei titoli Pokémon e che si potesse perdere l'unicità dei modelli in 2D, possiamo dire, essersi purtroppo concretizzata. Direi... E voi che cosa ne pensate? Quale Pokémon avete odiato di più nel suo modello in 3D? Vorreste rivedere la pixel art? Fatemelo sapere nei commenti, grazie mille per aver guardato... Sarebbe bellissimo avere un gioco misto da questo punto di vista. Cioè che... Ci sono stati tipo dei giochi di Dragon Ball, in cui avevi sia il 2D che il 3D contemporaneamente. Che sembrava molto comunque stile cartone di Dragon Ball, anche se era rimasto in 3D. Però ci vuol da lavorare, eh. Ci vuol da lavorare anche tanto. Paradossalmente, io che sono amantissimo della prima generazione, il gioco credo peggiore della catena Pokémon è un gioco che è ambientato a canto, che è Let's Go. Let's Go. Cioè una roba che per me ha completamente rovinato l'esperienza di gioco di un gioco di canto. Io l'ho comprato, l'ho giocato e non l'ho mai finito, credo di essere arrivato o alla Vandonia o giù di lì. Tre medaglie e poi ho detto, senti, mi fa cagare, non ci penso neanche. Gran bel peccato.